buonasera signore e signori benvenuti a quest'altra puntata del sunday night dice come sempre io sono lei la io sono ludo benvenuti ragazzi anche questa domenica a parlare di macchine di calcio ho visto che ha vinto la spagna ma soprattutto ogni tanto ci capire anche di parlare di gioco di ruolo raramente 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 tra l'altro per la gioia di tutti ora che mi sono trasferita nella casa nuova ho comunque messo lo sfondo delle lucine psichedeliche che piacciono a tutti che mi scrivono sempre da dove cazzo vai lo stream dal multiverso multiverso dietro ovviamente no signore e signori questa sera abbiamo un big super ospite nuovissimo soltanto per voi uno è un super ospite nuovissimo e l'altro è simone quindi cioè io la taglierei così e passiamo cambio schermata buonasera ciao a tutti e comunque immagino che ora questa cosa di sminuirmi sempre sta diventando una running gag abbastanza ormai ormai è la mia super gag di come presentare simone ok ma non io non sono d'accordo ovviamente siamo tutti bassi dici sarà perché questa sera signori siamo tutti bassi un pochetto di alzare te il volume mi verrebbe da dire al massimo ah intendi a gab ah ok siamo tutti bassi quello che guida in autostrada dicevano tutti contro la mano vai allora il banno gab almeno così allora io faccio questo annuncio a tutti quanti per qualche motivo discord questa sera ha deciso che è stronzo quindi per la gioia soprattutto di salva siamo tutti quanti su giz quindi non rompete le balle perché mi perdo gab dice giustamente infatti che lui sente bene e che gab probabilmente sta diventando sordo e quindi si potrebbe fare poi una loro su un certo manuale a riguardo esattamente allora questa sera con noi quindi c'è fox luden e come vedete nel centro ho fatto questa grande cosa proprio artistica proprio eh con il logo del ludiverse che non è del nostro ludo ma del nostro fox luden questa cosa è bellissima penso che la rifiuterò all'infinite all'infinite andrò avanti con questa cosa ma quindi fox intanto benvenuto e partiamo con perché sarà già troppato ludiverse quindi chi sei e cos'è il ludiverse bene bene allora ciao a tutti chi sono fox ludens è il mio nickname ormai in generale ma principalmente nato all'interno di ludiverse che è una community di gdr nata su discord devo dire che in realtà era prima nata con un altro nome perché originariamente si chiamava sierra roll club con un riferimento per chi lo conoscesse a il sierra club del gdr paranoia ok quindi era molto impostato anche tutto l'ambiente canali con tanti riferimenti a paranoia poi diciamo che paranoia è un gioco che c'è una certa e quindi i riferimenti andavano un po persi quindi abbiamo un po fatto un rebranding e nel 2021 abbiamo preso il nome di ludiverse che poi da discord si è ampliato anche su telegram quindi abbiamo anche un canale telegram e niente sostanzialmente è una community in cui si gioca di ruolo e lo scopo l'idea di discord sì sì di discord di ludiverse è quella di diffondere il gioco in generale particolare il gioco di ruolo perché è un po la mia passione io sono tra le altre cose un autore di giochi però la cultura ludica in generale è un po il nostro punto centrale intanto io vi mostro il sito di ludiverse sì il sito in costruzione purtroppo ma è comunque molto carino tra l'altro devo dirti che appena hai citato paranoia un paio di persone in chat ti hanno lasciato i cuoricini perfetto va bene hai colpito il cuore di cui ho colpito dove dove dovevo colpire e quindi sei anche un crattore da quanti anni ti sei un po cimentato adesso con questa esperienza allora senti ti do due riferimenti da questo punto di vista cioè il riferimento di quando ho rilasciato il primo gioco diciamo pubblicamente che è disponibile sulla mia pagina itch attualmente che è il ludiverse framework che vado a condividere esatto che più che un gioco è un framework per costruire giochi però può essere anche usato come regolamento di base con un po di accorgimenti e questo è stato il 2020 se ti dico da quando sì pandemia diciamo io prima lo nel 2020 l'ho creato e nel 2021 con il rebranding diciamo della community l'ho anche rilasciato con il nome proprio di ludiverse ufficiale ufficiale quindi è nato durante la pandemia però se ti devo dire da quando ho iniziato a scrivere il mio primo progetto serio di gdr progetto che tra l'altro vedrà la luce a breve questa è una mega anticipazione così si parla di dieci anni boia dieci anni in cui vabbè su questo ho fatto un sacco di roba non ho mai trovato una quadra perché non ero mai soddisfatto di niente recentemente ho sfruttato la famosissima tecnica del rasoio di Ockham tra tutte le alternative che avevo ho scelto quella più semplice e ora mi piace tantissimo direi che è uno dei successori del rasoio di Ockham l'importante è aver superato il blocco dello scrittore via sì 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 bene e invece per passare a capola ai miei co-host qui presenti Simo tu l'hai conosciuto in un'altra circostanza sempre legata al gioco di ruolo ma quella in cui tu sei un po' più esperto c'è da dire sì vabbè abbiamo incontrato questo maledetto al primo live di coso di Elder Scroll è un maledetto perché questo bastardo faceva un personaggio che faceva esperimenti sui poveri Dalmo era il vero villain era il vero villain il villain più cattivo di tutti questo qua faceva degli esperimenti su dei poveri i contadinotti di Elfi Alti per castrarli chimicamente è terribile ma Sir Fox cosa ci combina? assolutamente il malvagio dottor Domus con anche una simpatica citazione per chi la coglie il bello è che abbiamo non mi ricordo se era con te che io e con il fratellino Finlay siamo messi a disquisire sul fatto che non fossi una madre ma è un è stato un problema quando hai il fratello che è un personaggio che non capisce cos'è un dottore e devi provare a spiegargli l'altro meccanico dice non vedo nessun problema eliminiamo l'altmer no un attimo vantaggio il dottor Domus sarebbe stato d'accordo ci dissociamo da meccanico no scherzo e quindi si ti chiederai magari visto che tu conosci meglio cioè visto che l'hai incontrato in quella circostanza se riesci a fare una domanda del tipo per vedere si metterlo nei guai e fargli confessare che in realtà lui ha scritto dei manuali solo per avere la sua passione no vabbè a parte quello uno dei giochi che sta sviluppando non capisco se è finito o meno il progetto è appunto un gioco di ruolo da tavolo a cui si può provare ad adattare ogni regolamento di un LARP esatto praticamente se non sbaglio se non ricordo male su D6 e insomma considerando tutti i LARP che ci sono che ogni LARP ha un manuale diverso è una bella gatta da pelare effettivamente sì sì si chiama Slash D6 dove Slash è un acronimo che abbiamo ci abbiamo messo ore per decidere cosa volesse dire ma alla fine sta a quanto pare per simulated live action skirmish hack D6 ho controllato è giusto sì sì sono giusto e bene non me ne so scordare nessuna fantastico no l'ho scritto io quindi in realtà abbiamo scritto in due perché c'è un coatore che è il prof Gian Mario Marrelli che è un amico nonché un altro autore di GDR che ha scritto altre cose tra cui una versione per giocare D&D masterless poi non è proprio D&D ma insomma masterless siamo lì masterless sì con delle avventure precostruite ma che sono anche rigiocabili perché ogni volta la narrazione poi le le fa affrontare in modo diverso è molto carino magari poi vi ci metto in contatto assolutamente se vuoi fare un passaggio nella gabbia dei matti qua che vogliono sterminare delle rap e e niente lo slash di 6 è pensato per gestire tutte quelle cose che nell'arp si fanno fisicamente quindi sostanzialmente solo azione cioè le regole gestiscono solo il movimento e il combattimento ma non dal punto di vista di uso delle abilità cioè dal punto di vista del colpire parare eccetera eccetera perché poi tutto il resto va preso il regolamento dell'arp e adattato a questa cosa cioè il discorso è dove nell'arp io darei un colpo di spada tiro un dado dove nell'arp attivo un'abilità e il master mi dice succede questo lo posso fare uguale anche nel cartaceo cioè se io ho l'abilità seguire tracce e quando uso seguire tracce il master mi dice è andato di là non serve nessun tiro e quindi non serve nemmeno al tavolo quindi proprio pura narrazione sì sostanzialmente l'unica parte di alea viene dove cioè se io nell'arp fisicamente devo dare un colpo di spada e posso mancarti allora tiro il dado ah ok 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 altrimenti se è una cosa che nell'arp si farebbe senza alea perché se io ho l'abilità la faccio lo stesso succede nel al tavolo quindi mi devi perdonare ma come ho chiesto a Simo di farti la domanda visto che stai parlando tanto di alea so che sarà una domanda per te che mi sembra un buon momento per il tuo la mia domanda è beh sulla casualità sui tiro di dado ma c'è non credo di avere una domanda al riguardo perché assolutamente a me i tiri di dado fanno schifo come sono tutti Sara non ha nessun problema non ho nessun problema con i dadi detto questo invece cosa che per la cronaca io ho chiesto già ovviamente come prima domanda appena siamo arrivati è stata perdonami quanti dadi hai? bene la risposta me la sono preparata adesso è che questa scatola che un tempo conteneva un panettone adesso è piena sì è un panettone dolce gabbana me l'hanno regalato non l'ho comprato me l'hanno regalato a lavoro buono i datori di lavoro sinceramente ne ho sentiti molto migliori devo dire non avrebbe valso i 60 euro che lo hanno pagato i miei datori di lavoro e io no per fortuna già un panettone dolce gabbana così a gravi secondo me sicuramente 60 euro di panettone infatti la scatola l'ho tenuta molto bella infatti e niente e quindi uno due di queste di queste ne ho un altro paio mamma mia già che ci sono perché me l'ero preparata però visto che ci sono aggiungo anche un'altra cosa ho anche due di queste piene di dadi no quelle non le dette prima questo dadi no questa è una scatolina di da insomma siamo qui dentro di dadi ne e qui maciniamo e qui giunge un'altra domanda effettivamente però in questa cosa qua ma in realtà è una domanda generale più o meno parlando agli host anche quelli della chart se si ricordano considerando gli ospiti che abbiamo avuto quanti di questi avevano una dipendenza dai dadi perché nessuno supera quella di sala devo dire per come approccio perché sala proprio ha le fasi della dipendenza il crave quando ha la mancanza di acquisto l'acquisto compulsivo questo è vero però devo dire che Fox è quello con più dadi finora di quelli che sono passati è il primato che è più dadi di tutti me ne beo e secondo me anche più manuali perché la sua libreria dietro sono tutti manuali praticamente giusto? allora questi qua sono tutti manuali questi di qua che sono libri in gran parte è un po' di manuali ma sì però quelle due librerie là sono tutti manuali quelle dietro di me sono tutti manuali come cartaceo penso che abbia vinto onestamente ah sicuramente sì considerando anche la mia libreria mi batte a spada non mi batte 10 a 1 mi sa più o meno è giusto di sapere all'incirca quanti manuali no no non lo so esatto non ho idea già ti fa capire la risposta non lo so davvero qualche centinaio boia quindi parlando del grande numero di manuali e del tuo anche desiderio di scrivere manuali la domanda che mi viene scontata a farti è quindi qual è il tuo rapporto con D&D visto questo tuo sia desiderio di scrivere nuovi manuali che studiare nuovi manuali hai nominato D&D e quindi è che si deve dire allora questo lo dico con la limited della quinta di D&D in vista qui dietro ma basta ho smesso hai smesso no D&D è stato il mio primo GDR come tante tante persone l'ho amato ci ho giocato tantissimo alla terza poi alla 3.5 Pathfinder che poi vabbè alla fine è sempre sotto sotto è sempre D&D ho giocato tanto alla quinta ho fatto da master per l'Adventures League e poi mi sono un po' scocciato ci sono ci sono tantissimi altri sistemi che ormai dopo anni e anni e anni rientrano molto di più peraltro nelle mie esigenze ludiche perché D&D a volte mi dà veramente difficoltà per curiosità per curiosità D&D ti ha più scocciato dal punto di vista di giocatori o di master cioè dov'è che lo trovi più limitante se devi fare da master o se se devo scegliere preferisco masterarlo perché così posso ignorare le regole che mi pare questo è l'approccio ludo invece da giocatore non ce la posso fare dici troppo che posso dire troppo limitativo troppo troppo è veramente cioè è pesante per tanti motivi a me piacciono anche i giochi magari un po' come si dice crunchy ma diciamo che D&D su tante cose è veramente parraginoso anche banalmente se mi metto a pensare che se il nemico è steso a faccia in su oppure a faccia in giù ho due bonus diversi per colpi no dai non ce la posso fare però quello era una cosa più della 3.5 magari rispetto ora con la 5.0 sì no no la quinta molto meglio la quinta assolutamente molto meglio adesso devo giocare a D&D non giocherei mai a un'edizione precedente forse alla quarta giocherei più volentieri alla quarta l'altro quarta penso che siamo parte dei quattro che le hanno giocata la quarta edizione era dal punto di vista di game design era un gioiello il problema è che narrativamente era terribile e quindi sì era molto particolare qualcuno aveva giocato troppo a Dragon Age non lo so era un po' ma scusa finisci pure no 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 niente semplicemente ora D&D è molto in basso nella mia lista di priorità di giochi da giocare quasi in fondo perché ti stavo leggendo invece c'è un commento che appunto vabbè a parte è tossico sì sì è tossico ma che D&D vuole fare tante cose e diciamo che appunto esatto in questa live sono il 75% delle persone in Italia che hanno giocato la quarta è assolutamente in dubbio ma ma appunto perché D&D vuole fare tante cose questa è una cosa perché non so se sei d'accordo ma io non ho un problema perché mi sembra che fosse anche quello di Civite io non ho un problema con la crunch nel sistema cioè appunto io sono l'unico fanità sto scherzando però dico a me io adoro con l'Octuru che è un sistema per certe parti assurdo con il seguimento con delle regole tutte astruse ma cioè per me quella crunch è più spiegata perché quantomeno mi set up a un mood un'atmosfera e al tavolo una pressione che ci sta assolutamente assolutamente no no è quello secondo me cioè il crunch lo devi giustificare D&D vuole essere più generico possibile in una in un setting molto specifico che è il fantasy e invece vuole essere molto si può fare tutto con D&D è vero ma appunto perché anche perché ci sono invece dei sistemi che possono essere applicati a tantissime ambientazioni certo c'è Savage Words c'è Not The End per esempio Not The End ma c'è anche per esempio B&B ma che con le cavità che con le cavità va 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 B&B però è molto specifico perché è un fantasy e ora B&B bisogna spiegare che cos'è esatto che cos'è B&B che cos'è B&B è un mio gioco B&B è un gioco OSR OSR che sta per old school revival old school renaissance l'ho sentito dire in diecimila modi diversi che è il rinascimento dei giochi old school inteso come giochi in cui sostanzialmente le regole sono molto punitive ok quindi il gioco è molto molto punitivo e bisogna cioè il grosso del peso del portare avanti il gioco è lasciato ai giocatori che ruolano e che devono fare scelte anche consapevoli un esempio ce ne sono tantissimi però un esempio italiano che forse può essere anche abbastanza conosciuto l'ultima torcia l'ultima torcia è un gioco SR sostanzialmente cioè l'ultima torcia è un gioco in cui se te vai e cerchi di menare i nemici non sopravvivi ok se vai a dritto li meni cioè quindi nel senso come funziona da un punto di vista cioè al tavolo allora sostanzialmente ecco alcuni elementi tipici dei giochi OSR che riprendono da giochi old school quindi tipo advanced dungeons and dragons e di quella risma lì sono tabelle casuali ok poi sono la effettiva difficoltà di sopravvivenza negli scontri se vengono affrontati in modo diretto quindi c'è un tipo anche di gioco che ti porta più a essere strategico esatto al momento dello scontro appunto esattamente o a evitare lo scontro finché non sei certo di di poter fare qualcosa poterlo l'idea ci sono addirittura per quanto riguarda la corrente OSR che poi è una corrente di giochi che ora è abbastanza in voga quindi se ne parla anche abbastanza ci sono quelli che si chiamano principi apocrifa che sono diciamo le regole dell'OSR che sostanzialmente ti dicono gli OSR sono giochi di esplorazione collaborativa in cui si entra in un dungeon e si gioca per cercare di sopravvivere fino a fine dungeon cioè questo è il concetto laddove il dungeon non è necessariamente la caverna il dungeon può essere l'astronave che è se schiantata su un pianeta sconosciuto e te devi uscire dall'astronave oppure può essere che ne so una casa infestata può essere quello che ti pare però è più un dungeon crawler a questo punto come tipo di gioco molti giochi OSR sono dei dungeon crawler poi alla fine anche se detta così se apprendi tutto un manuale prendendo Dungeons & Dragons Quintedition mi viene in mente praticamente tutte le campagne sono come il dungeon del stregone del mago folle praticamente lo stregone folle si 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 solitamente dungeon meno diciamo meno elaborati di quelli che troviamo nelle avventure di D&D perché i giochi OSR molto spesso almeno per come li ho giocati io si giocano con campagne brevi o cose del genere non ci si fa una campagna lunghissima a volte non c'è neanche l'avanzamento del personaggio oppure è molto limitato insomma sono pensati proprio per un'esperienza di un altro tipo B&B che che ho scritto io è una parodia una parodia sì è una parodia dei giochi di questo tipo quindi dei giochi vecchi a scuola allora ti faccio questa domanda intanto prima di tutto quanto ci hai messo a scriverlo allora B&B l'abbiamo scritto in due anche quello peraltro sempre io e il prof che salutiamo Mario Marrelli citato precedentemente allora B&B l'abbiamo scritto lo scorso inverno in una notte fredda è tempestosa eh quasi ed è guarda è nato così qualcuno in un gruppo dove eravamo tutte e due ha mandato un messaggio vocale in cui diceva D&D e un bot che trascriveva i messaggi vocali ha scritto B&B ok e quindi io ho scritto ora ci faccio un GDR e poi l'ho fatto vabbè l'intuizione il colpo di genio quindi se ti chiedono per cosa sta questo B&B tu cosa rispondi B&B sta assolutamente per bed and breakfast ovvio ovvio che altre domande ovvio infatti il punto del gioco sta proprio nel fatto che gli avventurieri vivono in un mondo fantasy in particolare nella regione di West Dishes che è peraltro una diciamo una parodia di West Marches che è un tipo di campagna una tipologia di campagna che si usa un tipo di campagna sandbox che si usa di solito per giochi come D&D classici nella terra di West Dishes è molto ci sono un sacco di mostri e i mostri vanno a fare il nido nelle proprietà delle persone e quindi ci sono un sacco di avventurieri che devono andare a liberare le proprietà della gente e di solito insieme al pagamento è consuetudine offrire vitto e alloggio e quindi gli avventurieri liberano la proprietà dal mostro e gli viene offerto l'alloggio nella proprietà che hanno liberato e il vitto consiste nel cucinare il mostro che hanno sconfitto in chat ti stanno tutti facendo complimenti per la lovigine storia di questo manuale gli è piaciuto ovviamente praticamente hai creato la versione gioco di ruolo per certi versi di monster mesh cioè quell'anime dove vanno dentro il dungeon dungeon food sono usciti diversi ora credo curiosamente è un tema che proprio in questo periodo a me è uscito molto randomicamente come ho spiegato però poi è uscito fuori nello stesso periodo ha cominciato a diffondersi dungeon food e peraltro c'è un altro un team di sviluppo di gdr italiano che è la horrible guild che ha creato un altro gioco che ha un tema molto simile che si chiama wilder fist in cui i personaggi sono dei cacciatori che vanno proprio a cacciare i mostri per cucinarli un po' monster hunter il loro più monster hunter il loro mentre il mio forse più simile a dungeon food più parodia sì più parodistico molto parodistico nei confronti dei giochi osr anche se poi ne condivide lo stile di gioco sembra davvero molto figo ti faccio queste domande la prima l'avete provato immagino è più per forse one shot o per qualche mini campagna secondo te allora viene benissimo per le one shot ma secondo me lo si gioca a pieno in una mini campagna almeno una mini campagna perché c'è un sistema di avanzamento dei personaggi che viene proprio con il consumo dei mostri cioè ogni volta che si mangia un mostro si ottengono nuove capacità e quindi c'è c'è proprio anche l'interesse nel continuare una campagna e peraltro c'è anche una cosa molto interessante da questo punto di vista qui devo fare un trigger warning ma lo spiego il trigger warning è cannibalismo ah perché vai cialo vai cialo nelle campagne di sala succede soprattutto con gli orfani no true no true il trigger warning è questo perché siccome è un gioco con una elevatissima mortalità c'è una possibilità che serve da parodia di una dinamica dei giochi old school ecco la dinamica dei giochi old school che viene padronizzata è quella che quando muore un tuo compagno lutti ok cioè lutti il tuo compagno perché non lasci la sua roba magica lì per terra non esiste giustamente siamo ecologisti che fai la scelta la cosa più importante non è seppellirlo no è luttare ok ma è il suo desiderio infatti in bnb questa cosa di luttare è portata al massimo nel senso che te lo puoi anche mangiare per prenderti una delle sue abilità io mi vedo già tutti gli altri giocatori che si avventano sul povero cristo morto quello che fa questa cosa la vuole è un compagno esatto è un compagno ha un'abilità utile e muore l'abilità può rimanere in gioco attraverso questa meccanica che è anche proprio serve per parodizzare il fatto del lutto dei compagni che avviene normalmente nei giochi di questo genere questa cosa è fantastica posso dirlo? cioè ha colpito anche la chat è un modo come un altro vabbè diciamo che è un modo come un altro per creare un po' di interazioni del tipo ma è eticamente giusto mangiare nel frattempo c'è quello già con la coscia in bocca ma sì sono molto soddisfatto comunque del fatto che il capitolo in cui ho scritto questa cosa si può mangiare proprio un panni l'ho chiamato a cena con gli amici che tecnicamente non è sbagliato no infatti infatti c'è oh no che sta succedendo si è spesso si è spesso perché ci sono due luto non lo so ma adesso butto fuori l'alto si butta fuori il luto sbagliato ok ok ci siamo leggermente sbottati date a questo rumo una cotoletta ok no mamma ok no comunque è una meccanica super fighissima ma se qualcuno dei nostri ragazzi che in questo momento stanno già cercando di uccidere i propri compagni volessero giocare a B&B allora come si fa semplicemente B&B attualmente attualmente è disponibile soltanto un quick start gratuito che trovate sul mio itch che sto per passare del quale esatto grande luto insieme a tutta una serie di altri progetti abbastanza interessanti e se nel caso invece volessero proprio provarlo magari con te questo si può fare assolutamente perché entrando o sul gruppo telegram o sul server discord tra i due consiglio il gruppo telegram è quello dove c'è attualmente un pochino più attività discord si usa quasi solo per giocare potete semplicemente entrare chiedere contattarmi noi organizziamo sessioni molto spesso per esempio abbiamo organizzato una sessione proprio di B&B all'inizio di questo mese e il mese prossimo sarà possibile cioè ci sarà a disposizione la possibilità di giocare a uno qualsiasi dei miei giochi semplicemente chiedendomi ah dai io sono interessato ci mettiamo d'accordo per una data e si gioca inoltre lo porto spesso a eventi di vario genere per esempio l'ho portato e l'ho fatto giocare al Ludicomics a Empoli qualche mese fa lo farò giocare alla festa dell'unicorno a Vinci credo il venerdì oppure il sabato non ricordo quale dei due perché un giorno ha un gioco un giorno un altro quindi devo risalterla via però iscrivetevi nel gruppo telegram che rimanete aggiornati assolutamente nel gruppo telegram ci sono tutte le informazioni del caso e lasciate anche il follow switch follow switch più che altro perché rilascio cose nuove ogni tanto e a breve a breve può darsi che appariranno alcuni nuovi progetti perché la mia community mi ha detto che preferisce se i giochi vengono messi online resi disponibili anche quando sono in fase di test siccome i giochi in fase di test ne ho diversi piano piano usciranno ma qua allora se posso un attimo a meno che noi gli altri host non volessi fare una domanda che ho già fatto un sacco ma questa parte può essere molto interessa cioè mi interessa molto perché io lavoro più lato software ma è anche interessante sapere per uno che fa giochi di ruolo cartacei quando è abbastanza il testing ti metti un limite di tempo oppure dipende dal progetto lasci comunque arrivare il feedback all'infinito allora dipende tanto oh no oh no allora voi mi state sentendo come sempre egizio a un certo punto crasha quindi ora ci sono tipo solo io che sto parlando spero che prima o poi tornerà qualcuno non capisco neanche perché ha fatto saltare la mia di webcam stupido egizio a questo punto almeno la mia non la facevi saltare ora sono tipo divisa su 400 cose super funny ciao come state come è andata la vostro weekend non so cosa devo fare io spero che qualcuno mi arrivi in soccorso ad un certo punto tipo un ludo tipo qualcuno ciao perché mi è morto tipo tutto però non importa ricarica la pagina grazie ludo vediamo io comunque l'ho eccola qua io l'ho di Gizzi uno mi spiegherà perché crasha sempre cazzo di Gizzi no no ma è bastato ricaricare un attimo la pagina continuo pure Fox eravamo arrivati al stavo dicendo sì sui test dipende molto dal progetto allora ogni volta che provo B&B è un po' un test però attualmente le meccaniche nonostante le abbia testate solo due o tre volte mi sembra che funzionino bene bene quindi delle volte c'è anche un progetto alla prima botta tra virgolette esatto può capitare e vi faccio un altro esempio per dire ho scritto un one page GDR chiamato Il Varo l'ho scritto per un contest che c'è stato a Libera Ludum che era la fiera di Kraken a Sesto Fiorentino e quello io l'ho scritto non l'ho testato davvero? ok non l'ho testato ci sta l'ho mandato perché non avevo tempo di testarlo sostanzialmente altrimenti avrei fatto sarei arrivato in ritardo sul sul limite per mandarlo e dopo l'ho provato una volta mi sono accorto di un singolo problema che ha e ce l'ha solo se i giocatori sono pochi tra l'altro l'ho provato tra virgolette nel senso che non è stato cioè non è che mi sono messo con altre persone mi sono messo a immaginare cioè a farmi un uno schema di come va la narrazione facendo io i tiri di dado per tutti i giocatori tra virgolette quindi non è stato nemmeno un test vero effettivamente forse il beta test online con la community potrebbe essere una grande idea sì 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 però mi sono accorto facendo così del di un principale problema che aveva e non l'ho ancora corretto nel file infatti se lo se lo scatti ora c'è ancora questo piccolo difetto ma tendenzialmente a parte quello poi il gioco gira tra l'altro un difetto ripeto che capita solo se ci sono meno di 4 giocatori ok do il benvenuto tra l'altro a Jeff che mi ricordo che era passato da torcer con un po' di tempo fa quindi bentornato stiamo facendo non dico un'intervista una chiacchierata con Fox Luders una chiacchierata una chiacchierata una chiacchierata e adesso penso che sarei arrivato il momento delle domande davvero spinose però oddio vai sono difficili difficili che almeno io quella che faccio di solito è questa tu per quando giochi da master diciamo poi da giocatore poi sono un po' diverso magari quanto per te è importante a prescindere il manuale anche se quello può influire seguire le regole rispetto a dare ai giocatori l'esperienza che vuoi dare per essere generici allora diciamo che io sono di base dell'idea che le regole siano una traccia ok quindi l'esperienza di gioco non viene solo dal seguire le regole ma da tutta una serie di altre cose che in inglese è la differenza tra rule e ruling in italiano non so se mi viene un termine adeguato a questo riguardo però una cosa sono le regole una cosa sono il modo in cui vengono applicate o non applicate volontariamente di base penso anche da un'altra parte che se cambi troppo le regole stai giocando a un altro gioco è vero quindi credo che ci voglia un equilibrio l'equilibrio è un pochino più spostato sul libertà di lasciar perdere qualche regola cambiarla eccetera eccetera però di fondo un minimo cioè non posso giocare a dnd e lasciare tutto invariato tranne che tiro il d10 invece del d20 perché si spacca tutto ok questa è la mia domanda spinosa adesso lascio il mio ma questa era spinosa ma dai ludo beh io so che c'è qualcuno che si incazzerebbe allora ti faccio io un'altra domanda tu appunto come stavi raccontando prima vai a tanti eventi a portare i tuoi giochi o comunque giocare di ruolo soprattutto da master giusto? soprattutto da master ok la mia domanda è non ti capitano i giocatori proprio a caso quelli che vorresti spaccare il libro in testa però sei molto gentile non lo puoi fare soprattutto perché stanno provando il tuo gioco ma non lo stanno capendo e fanno cose a caso e ti hanno fatto la stessa domanda 255 volte allora devo dire che questa è una cosa che capita sempre meno oh non so dare di preciso una spiegazione come mai ma credo che qualche anno fa fosse più frequente questo tipo di giocatore poi capita cioè il giocatore che soprattutto se porti un gioco abbastanza famoso in qualche forma capita il giocatore che conosce il gioco e magari ecco ci sono due opzioni che sono quella in cui ti lasci correggere se fai una cosa oppure quella in cui gli dici sì ma lo so che nel manuale c'è scritto così però io in questa campagna faccio cosa perché il master sono io faccio il cazzo che mi pare quindi ecco lì uno poi vede un po' chiaro che capitano capitano queste capitano altre alle fiere capita di tutto da giocatore mi è capitato anche il master che non sapeva cosa stava masterando davvero non sapeva proprio nulla e come è possibile come il master arriva lì ma perché qualcuno gli ha dato un manuale in mano ha detto vai buttati eh faccio un esempio quando fanno le presentazioni ad esempio a Luca Comics vedi questi ragazzi magari che sono lì a fare gli steward li prendono e dicono guarda fai il master ma non so neanche come si tira un dado fallo non rompere i coglioni questo è la mia guida vai purtroppo purtroppo succede mi è capitato recentemente tra l'altro con un gioco basato sul cypher system che è uno dei miei regolamenti preferiti il master non aveva la più parola idea di cosa stesse facendo e praticamente abbiamo giocato a a qualcos'altro a qualcos'altro perché poi tante delle meccaniche che caratterizzano più il gioco non le ha tirate fuori una l'ha usata in modo sbagliato insomma una cosa perché gli hanno dato quello gli hanno detto manca qualcuno ci abbiamo da portare questi giochi manca qualcuno che porta questo te sei l'unico libero portalo te e questo magari in tre giorni si è dovuto studiare va a sapere non ci aveva mai giocato neanche da giocare io non sono nemmeno stato a romperli troppo le scatole e qui voglio provare ad andare a qualcosa di un po' un po' più spicy se vogliamo perché tanto immagino fra te che hai un'esperienza con vari manuali molto più ampia rispetto a noi sorge una domanda spontanea qual è il gioco che più ti ha fatto cacare e perché perché tanto ragazzi volenti o dolenti ci sarà sempre magari quel manuale che proprio a guardarlo ci sta sul cazzo personalmente non fare il paraluto come il tuo solito gli stavo dicendo e puoi dirlo personalmente allora allora è ovvio si parla di gusti che cacchio potrei potrei vincere facile il classico ti piace vincere facile dire Fatal ma io non lo ad esempio io sono ignorante non lo conosco perché Fatal fa così schifo non vabbè no allora Fatal è ufficialmente credo il gioco di ruolo più brutto mai scritto a vinti e credo allora diciamo che è un gioco di ruolo che se ti metti a leggere il regolamento è carico di roba tipo razzismo sessismo di tutto del tipo che quando te scegli che personaggio fare se il tuo personaggio è una donna ha le statistiche peggiori rispetto che sei un uomo questo per capire ok chi cazzo non ha scritto sta e e poi ci sono un sacco di altre cose del tipo che quando crea il personaggio uno dice ok tira un dado in base a questo determini l'altezza no vabbè ci posso anche stare il problema è quando determini l'altezza poi tiri per determinare la dimensione delle braccia poi tiri per dimendere la dimensione le dita poi tiri per determinare dimensioni di altre cose il cazzo ovvio come sempre sempre lì vabbè dai subì lo pensavano tutti ora non facciamo tanti puritani comunque e niente insomma andando a guardare delle immagini c'è roba anche disegnata veramente con i piedi se posso chiedere posso dire è veramente terribile è veramente terribile ma italiani per curiosità no no americani ah e vabbè chi poteva essere americani ovviamente no ma è qualcosa di strano che non lo conoscevate perché è famoso per essere così orribile meno male mi piace sono notato qui la caption che è fatal not just a game ad subscribe for help interessante bello è veramente terribile ma siccome dire quello sarebbe troppo semplice ok a livello personale dirò project hope project hope che è un gioco di ruolo che a livello di premesse narrative è una figata perché è un gioco di supereroi ambientato durante la seconda guerra mondiale carino ok in cui sostanzialmente i giocatori dovrebbero giocare i supereroi dell'alleanza che si trovano a dover affrontare ovviamente l'asse e ci sono anche i supereroi dell'asse che normalmente sono più forti perché usano roba proibita poteri proibiti e cosa del genere perché come incipit è anche abbastanza carino che gliene frega no esatto perché non hanno una moralità che è meno crimini di guerra come se piovesse e quindi sei i supereroi buoni contro i supereroi cattivi sostanzialmente cos'è che è andato storto? no è andato storto che il regolamento è veramente inusabile per tanti motivi in primis che hanno detto va bene mettiamoci tutti i supereroi tipo Marvel no e quindi ci hanno messo sia i supereroi che quelli che hanno gli artefatti che quelli che i maghi perché se c'è Doctor Strange ci possono mettere i maghi eh sì possiamo che gli uomini con i macchinari quindi quelli che poi poi vai praticamente dal Capitano America passi al Doctor Strange arrivi fino all'Iron Man perfetto e sarebbe una figata mi sudato d'inverno esatto e sarebbe una figata se non che i maghi fanno tutto meglio di tutti gli altri e poi ci sono delle cose che non tornano perché c'è per esempio c'è un superpotere che possono avere alcuni che dice ah nell'area in cui è attivo questo superpotere annulla tutti i superpoteri degli altri e quindi vabbè classico campo antimagia nel senso bene sarebbe figo se non che è spiegato male perché non ti dà dei limiti non spiega niente come funziona non spiega se annulla anche i poteri passivi perché per esempio un superpotere possibile è l'immortalità e se mi annulla l'immortalità muoio di colpo bomba infartone funziona sull'immortalità o no boh poi annulla solo i poteri o annulla anche la magia annulla non è spiegato niente ah ok è un po' in beta testing e le cose non tornano si incastrano male ci sono dei personaggi cioè alla fine ti ritrovi con il fatto che i supereroi cioè quelli che hanno proprio i superpoteri veri sono i personaggi meno interessanti da giocare è brutto non è uscito bene direi e la premessa era molto carina io ho giocato un paio di campagne e poi ci siamo sempre fermati su qualche difficoltà tecnica di questo genere è una bella uscita senza buco peccato perché invece a livello di ottima premessa pessima realizzazione sì esatto infatti dopo la seconda campagna fallita perché non ci riusciva a dire abbiamo semplicemente preso Shion non so se lo conoscete Shion e abbiamo ambientato una campagna di Shion nella seconda guerra mondiale e quindi abbiamo fatto la stessa cosa perché ti era rimasta la cosa che ormai c'era rimasta la cosa narrativa Shion è un GDR in cui l'avete presente Percy Jackson sì bellissimo ok c'è anche un videogioco in un Shion qualcosa del genere perché può darsi comunque il GDR Shion è un gioco di ruolo in cui i protagonisti cioè i personaggi sono prescelti di divinità di antichi panteon quindi tipo dei greci o egizi eccetera eccetera che gli danno dei poteri per diritto di nascita perché lo si può utilizzare un po' come superpoteri quindi sì alla fine è un po' come se fossero dei superpoteri diciamo c'ha una connotazione un po' diversa perché non sei un supereroe ma sei il prescelto di Zeus però poi alla fine se sei superforte superveloce spari fulmini dalle mani o è un superpoteri ma è scritto tipo S H I O N o SC SC tra l'altro c'è un personaggio di 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 naruto non so che cacchio sia RPG tra l'altro c'è una seconda edizione di Sion che è uscita recentemente è carino come incipit perché sennò come potevi come hanno lì mi viene in mente Masks che è Power by the Apocalypse e il vecchio Mutants Mastermind ma che non sarei mai della vita perché no un po' troppa libertà lì probabilmente mi fa molto ridere che appunto stavo cercando tipo peggior RPG del coso ci hanno messo il nuovo manuale di Goblin Slayer interessante cosa non lo lo dico anche perché so che c'è il meccanichisto in chat che appunto comunque giochi di supereroi ce ne sono tanti per esempio c'è Galaxies in Peril c'è il GDR della Marvel c'è un GDR Marvel c'è un GDR della Marvel non ufficiale credo ma c'è sarà incasinatissimo c'è Capers che è un GDR di supereroi in un'ambientazione noir vediamo se c'ho qualcos'altro mi capite sotto gli occhi City of Mist bellissimo già risentito quello sempre molto noir è un PBTA che si focalizza sul proprio sul fatto che i personaggi devono bilanciare la loro parte naturale con quella sovranaturale quindi si focalizza proprio su questo tra l'altro questa cosa del manuale peggiore eccetera mi ha fatto venire in mente che come raccontava Ludo prima noi abbiamo fatto questi glints cioè ogni settimana portavano un manuale nuovo e abbiamo girato un po' tutto tra l'altro è arrivato Gufo che è il nostro un po' espertone di questi manuali e Gufo mi ricordo che tra i vari manuali che aveva portato Blazing the Dark Nome Nero eccetera eccetera se non sbaglio ce n'è stato uno che poi è stato votato come il manuale che è piaciuto di meno per i glints quindi comunque per i giocatori da giocare che se non sbaglio era Nameless Land può essere? si si confermo aspetta prima o seconda edizione Nameless Land? eh questo non lo so ce lo deve dire Gufo Gufo? è il titolo del pubblico prima 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 ok ci sta ok ci sta aspetta allora io vi dico non è ancora uscita la seconda dice Gufo no come non è uscita la seconda dice all'epoca che l'abbiamo giocata ah non era non era ok non era ancora uscita allora io a questo proposito vi devo dire che la mia obiettività su Nameless Land non può essere garantita perché io andavo a scuola con gli autori nooo e quindi giusto non c'è un posto italiano Nameless Land boia ma è di sono di Santa Croce addirittura sì cioè se letteralmente cioè io sono di casa del pranco cioè posso andare a trovare letteralmente a casa sì assolutamente sì boh li salutiamo non volevo offendere nessuno per la cronaca e allora devo dire che la prima edizione di Nameless Land aveva un sacco di piccole piccoli problemi che io ho sempre questo lo posso dire perché all'autore glielo ho sempre detti quindi la seconda edizione di Nameless Land secondo me è molto meglio da tanti punti di vista una cosa un po' differente il principale grossissimo problema della prima edizione di Nameless Land era che per giocarci bene dovevi buildare il personaggio perfettamente in modo impeccabile da livello 1 fino a livello 15 era il massimo perché se no non era mai abbastanza prestante e questo per qualcuno è divertentissimo per tante persone no perché io magari il personaggio voglio il personaggio che spara i missili e se invece sparare i missili non funziona tanto bene che palle comunque per mettere in ottica abbiamo portato solo manuali belli quindi non è che ha perso contro da livelli e tra l'altro gufo specifica che in realtà l'ambientazione è piaciuta a tutti l'entrata molto figa era solo una personalmente io appunto l'ho giocato quello lì l'ambientazione effettivamente a me è posto apocalittico crudo come quello mi ha ricordato anche per un po' un misto di fallout ed mad max quindi in realtà l'ambientazione mi è piaciuta un sacco però a livello di meccaniche ha abbastanza una palla al piede cioè che posso essere sincero sì 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 ma la prima edizione sicuramente ora la seconda secondo me è già un po' meglio la prima edizione effettivamente era un po' pesante se ti dovessi dire adesso non ci giocherei tanto volentieri per esempio ci ho giocato tantissimo perché ero uno dei playtester ufficiali poi alla fine del gioco e peraltro diciamo che molti dei consigli che poi a playtester abbiamo sempre dato sono stati integrati nella seconda edizione quindi la seconda edizione ha sinceramente preso molto di più da i consigli anche di chi ci ha giocato tanto e quindi ha migliorato un po' questa cosa devo dire che era appunto un po' farraginoso come sistema però lo voglio anche contestualizzare cioè se pensate quando è uscito il primo manuale di Nameless Land si giocava tutti solo a D&D e Vampirilla Masquerade ok qualcuno aveva iniziato a giocare a Sine Requie questo era il massimo non c'era anche il mondo di tenebra nel mezzo tipo Vampiri Vampiri è vero è vero è sempre il mondo di tenebra è vero si giocava tutti a quei due giochi lì e basta e boh cioè quando è uscito era una turbo figata perché e dice appunto si sono buttati sulla novità e quindi sorpassi anche sui problemi a quel punto il nostro gufo si lamenta cioè si lamenta dice che il problema era che serviva una calcolatrice per fare ogni tiro di dato non sono propriamente d'accordo ma questo potrebbe derivare dal quantitativo di ore e titoli di studio accademici che ho accumulato nella mia vita quindi ma sai cos'è ma sai cos'è anche la questione che considerando appunto anche i giochi che all'epoca erano usciti alla fin fine erano tutti in quella maniera cioè già tnd 3.5 è una dichiarazione dei redditi vampiri la maschera ed altra dichiarazione dei redditi cioè quindi nel senso era proprio il modo in cui si portava il gioco di ruolo all'epoca quindi ok contestualizzandolo nel in quell'epoca ormai si può parlare quasi di epoca quanti che si parla in primi anni 2000 mi sa e ci sta effettivamente solo che oggi come oggi si premia di più qualcosa che sia più sciolto più veloce volendo anche perché il gioco di ruolo ora è diventato e si è sdoganato anche poi venendo fuori a nuove persone che magari di Nd fino a qualche mese fa non sapevano nemmeno cosa di cosa se ne si trattasse basta guardare appunto abbiamo fatto anche la puntata qua della gilda che sul passo come anche Stranger Things ha portato Dungeons & Dragons nel mainstream se così vogliamo e vi vedi se vai a un nuovo giocatore te li dici guarda To 3.5 guarda la scheda si impicca giustamente se lo vogliamo se lo vogliamo proprio fare impiccare diamoli curbs e allora eh sì anche quello famoso per essere ammetto che io sto avendo difficoltà anche a leggere questo se puoi tirare la copertina vampiri la maschera non l'ultima quella sì sì neanche il ventennale cioè quella proprio dovrebbe essere la terza edizione che è una roba sì che poi al tempo però c'era c'era quello nel senso i giochi più diffusi no ce ne erano tanti di GDR e iniziavano anche perché credo fosse già uscito o più o meno in quel periodo si è uscito anche Fade per esempio quindi si iniziava già con anche giochi di altro genere però se non sbaglio anche Pathfinder sarebbe arrivato dopo dopo mi sa sì 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 però ecco capito i giochi che erano veramente diffusi tra i giocatori di ruolo erano D&D Vampiri la Masquerade e da queste parti si ne requie perché anche lì gli autori sono di qui quindi qui ci si giocava un sacco noto che la Toscana in questo momento non lo sapevo è terra fertile per la Toscana è terra di GDR è terra fertilissima siamo pieni non lo sapevo questa cosa qua proprio mi è nuova l'ho ammetto vi interrompo solo un secondo per ringraziare Granpasso che si è iscritto per 18 da 18 mesi che si iscrive Granpasso grazie mille e commenta D&D culone va bene ha pure commentato non abbiamo una sega da fare in Toscana non ha tutti i torti no 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 non ha tutti i torti soprattutto se vai nella zona del Chianti e roba del genere non c'è un cazzo da fare quindi è vero tra l'altro quando io ero a Firenze che eravamo nella fumetteria che ora non mi ricordo come si chiama Riccardo mi ucciderà perché era tipo la sua base a Firenze Firenze si vai Stratagemma Stratagemma bellissimo che ci avevano regalato questo tra l'altro non so se lo conosce si che è sempre di un ragazzo di Firenze che l'ha fatto ed è una sorta di manuale per creare un'ambientazione che è una cosa stracarina si queste sono ne ho visti due o tre di progetti di questo genere sono molto carini a me piacciono ti danno degli spunti per cui te inizi ti crei il setting con quello e poi ci giochi si ma è molto carina proprio l'idea a parte il fatto che ha dei disegni super cute ma è carina come cose è carino anche che appunto si prestano tutti quanti a cercare di aiutare anche i creatori italiani io sto a Milano e francamente tutte le volte che sono andata non te li cagano di striscia cioè tu entri c'è solo il commerciale a parte il fatto che ormai qua vendono solo Funko Pop ovunque io le odio spero che esplodano non so cosa c'entri in qualsiasi negozio di giochi di ruolo vendono Funko Pop ormai qua qualcuno prima o poi me lo spiegherà Funko Pop piacciono ai nerd giochi di ruolo piacciono ai nerd e questo è il sì ma se tipo sono 600 Funko Pop e soltanto Dungeons and Dragons cioè nel senso un po' va bene tutto ma chiudi guarda è meglio però quello si vende e lo so tra l'altro Fox hai mai giocato al manuale preferito del nostro Ludo ovvero Tales of Equestria sì 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 e vi dirò di più Tales of Equestria è un fottuto capolavoro è un bel manuale glielo dici che è un bel manuale è uno dei più grandi capolavori di game design degli ultimi dieci anni va bene ragazzi non potete mio nuovo ospite preferito ospite fisso lo invitiamo ma c'è perché io ho portato il glimpse e tutti mi hanno preso per il culo ogni volta che ne parlo dico che bel modo Ale mi vedo per il culo e diglielo anche te che è bello soltanto perché ci sono i My Little Pony ma qual è il problema nel senso tanto considerando la community che c'hanno sono più agenti 40 anni che quei a parte quello a parte quello vi prego l'unica cosa l'unica cosa che gli si può criticare a My Little Pony è la community che è super tossica perché dovrebbe essere una community è un coso per bambini dovrebbe ma non lo so dovrebbe essere una community di bambine tutte carine che ha i pony e invece non è così lo sappiamo purtroppo sarà per certe cose che è ancora un po' un piccolo fiocco di neve da proteggere su certe cose che in realtà è un bene se non conosci queste cose però ma ma devo dire che il GDR io l'ho masterato e giocato ha delle intuizioni proprio a livello di game design che sono veramente interessanti per esempio ne dico una solo perché secondo me è la più significativa tutta la lore di My Little Pony si basa sul potere dell'amicizia cioè l'amicizia è magica ok e in My Little Pony ci sono questi punti che tu ottieni quando ti fai nuovi amici o quando eccetera eccetera che poi li puoi usare per ottenere potere narrativo sulle scene ok che è una meccanica peraltro molto moderna e il punto è che te normalmente in tutti questi giochi in cui c'è questa meccanica te puoi usare questi punti per ottenere un potere narrativo che ti porta un vantaggio a te e invece in My Little Pony oltre che in questo modo te li puoi spendere per portare un vantaggio a qualcun altro cioè a un tuo compagno e se lo fai valgono doppio perché lo fai per amicizia e l'amicizia è magica e questa cioè a livello proprio di game design è un capolavoro cioè è geniale è delizioso specifico che della one shot che ho portato sulla gilda hanno preso zero punti amicizia ai giocatori ma questo è un altro disco perché sono di mostri no no anch'io forse non ho però è molto bello ma more davvero dategli una letta perché è fatto bene tanto è fatto da un autore italiano che ha fatto anche degli ottimi altri prodotti non ho mai avuto di riconoscerlo però e ora volevo fare un attimo un'altra domanda cioè questo punto qui non so se vale anche per Ludo ma appunto tra due game designer tu per i giochi di ruolo da cosa parti quando vuoi creare un gioco faccio esempio per B&B no ti è venuta l'idea dici ok bed and breakfast questi che mangiano i mostri e pigliano l'XP l'XP cioè da lì poi da dove è iniziato a strutturare il il tutto da cosa sei partito dal sistema quale quale dato meglio utilizzare o le regole di base ora te lo dico direttamente io sono lo stronzo che chiede queste cose qua mi interessa molto la parte ciccia insomma ok partiamo voglio creare questo gioco di ruolo da dove incomincio allora secondo me bisogna aver chiaro quelle che sono alcune premesse di design cioè cosa voglio fare voglio fare un gioco leggero voglio fare un gioco narrativo voglio fare questo è una cosa che bisogna avere presente e per esempio io faccio l'esempio di B&B proprio perché ne abbiamo parlato la mia premessa era voglio fare un gioco SR ok quindi il gioco si deve basare su delle caratteristiche e delle abilità che fanno sì che un personaggio che è molto addestrato abbia una probabilità decente ma non elevatissima di riuscire nelle azioni e un personaggio che invece addestrato non lo è abbia una probabilità piuttosto bassa ok questa è stata la mia premessa iniziale e quindi ho creato per prima cosa un il sistema di tiro ho detto ok più più il personaggio è bravo più è alto il dado che tira cioè un personaggio che è poco bravo tira il D4 un personaggio molto bravo tira il D12 ok per esempio ok il partito da questo ho detto ok come la ottengo questa cosa allora ho creato le caratteristiche e le abilità le caratteristiche che hanno un punteggio una taglia di dado base e le abilità che possono alzare se sei abile o abbassare se sei incapace la taglia di dado di 1 ok ok quindi le caratteristiche hanno un punteggio di 6 di 8 e poi alzandole e abbassandole puoi far arrivare a D4 quindi lo span diventa D4 D12 ok questo è stato più o meno il processo creativo però avevo di base il concept di dire come come fare cioè qual era lo scopo da raggiungere e ho iniziato a pensare a diverse combinazioni di caratteristiche eccetera peraltro nella prima stesura le caratteristiche erano tre perché non avevo avuto l'intuizione di mettere due sole caratteristiche chiamate bed e breakfast che è stata poi quella finale che peraltro credo sia stata nemmeno un'intuizione effettivamente mia ma forse è stata del prof l'altro autore mentre l'intuizione delle abilità come sono ora c'è stata fin da subito e lì tante volte si fa uno fa delle prove cioè pensi come lo faccio vedi cosa viene fuori e lo provi mentalmente e o un'altra cosa che faccio molto spesso è analisi statistica mamma mia perché perché è fisico è fisico è giusto cioè se io tiro questo dado con questa difficoltà con questo sistema quant'è la mia probabilità di ottenere un successo di ottenere un successo mezzo di un fallimento di eh questa è una cosa che faccio tantissimo perché per me è abbastanza importante cioè se io voglio che in questo gioco si abbia molto spesso un successo io bisogna che mi guardi statisticamente quanto è facile avere questo successo ho una domanda ti basi anche nella creazione di un GDR anche su quello che senti dalle persone nel senso magari molti si lamentano non lo so di alcuni aspetti di le regole di altri manuali sarebbe più figo se fosse così cioè tra ispirazione anche dai feedback delle persone in generale da quello che magari oh anche soltanto i tuoi hai provato i manuali hai capito che le regole sulla sopravvivenza ti fanno schifo e quindi non le introduci nei tuoi manuali o fai qualcosa di più complessivo anche se magari non ti ispira tantissimo cerchi di fare una cosa più completa meno personale no allora per me una cosa molto importante è salvo in alcuni casi specifici che le meccaniche siano specifiche per il gioco cioè per esempio una meccanica come può essere per esempio una molto generica come quella delle intromissioni del cipher system che sarebbe il sistema in umenera a me piace molto come meccanica però ha un po' di carenza tra virgolette di personalità nel senso che l'intromissione io la posso usare sia per Numenera che per The Strange che è un altro gioco in cipher system che però il God of Appalachia è la stessa identica meccanica ok e mi sta bene ma io preferisco che ci siano principalmente delle meccaniche che invece sono molto pensate per quel gioco come ad esempio le caratteristiche bed and breakfast di B&B ok cioè il fatto che le caratteristiche siano proprio del manuale si di quel gioco cioè che se tu le senti dici questa è di B&B un po' come non lo so la follia magari di Coloktulu che dici la perdita di sanità mentale dici ok ecco Coloktulu esattamente e questo è anche un motivo per cui poi D&D mi crea delle problematiche perché le meccaniche di D&D sono molto sono quanto più generiche possibile perché poi si devono adattare a una pletora di ambientazioni eccetera eccetera vabbè come vedi anche in Curso of Strad che comunque c'è la la dinamica della follia sì va bene però sono quelle sono Curso of Strad è un'avventura sì quello è vero se se ci fosse stato il gioco Ravenloft basato su D&D 5 che ha le sue meccaniche sarebbe stata un'altra cosa per esempio un gioco basato su D&D 5 che secondo me aveva delle buone potenzialità era abbastanza interessante però non amo la community che c'è d'intorno è Brancalonia no vabbè parliamo di community io non la conosco quindi no 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 allora non amo la community che c'è intorno perché non perché penso che siano tutti delle brutte persone ma perché la community di Brancalonia si è formata questa community che ha Brancalonia punto non esiste altro che Brancalonia come quelli che non esiste altro che D&D come quelli che non esiste altro che Vampiri è solo la Masquerade perché nel Requiem non c'è il Sabbat quando le persone si fissano troppo su un gioco secondo me c'è sempre qualche problema è bravo quando hai detto questa cosa perfetto grazie no vabbè il gatekeeping come sempre fa male in ogni cosa invece se posso visto che stiamo iniziando ad avviarci verso una certa e l'abbiamo già tartassato su tutto il suo lavoro che ha fatto come il game designer si ci manca il lato fisico andiamo anche su quello no no andiamo sul lato fisico volacce perché ok ma come ti citava ti faccio la domanda di mio interesse cioè perché come ti citava Simo io di lavoro sono game designer per videogiochi ti volevo chiedere tu giochi videogiochi in qualche modo ti hanno influenzato nella tua passione o nel tuo lavoro per il game design cartaccio allora la risposta è assolutamente sì sono un videogiocatore da sempre ma sempre inteso che quando ero piccolo mio padre aveva comprato il SIGA Master System boia va bene e io e mio fratello giocavamo insieme a mio padre al SIGA Master System quindi molto chato videogiocatore da tempi in memory e sì ci sono delle influenze da parte dei videogiochi nella mia carriera game designer assolutamente sì per forza perché poi succede che che si voglia o no ok peraltro peraltro ho in progetto visto che abbiamo citato questa cosa un GDR che recuperi cioè che cerchi di dare un feeling che ricorda alcuni tipi di videogiochi non dico altro ma un progetto su cui sto lavorando molto molto bello perché appunto io in realtà perché purtroppo invece facendolo professionalmente lo sviluppo i videogiochi sì è molto diverso rispetto alla scrittura di GDR e cartacei perché lavori con un sacco di persone e devi dare un sacco di craniate ai calci del culo per far passare anche la più basilare delle cose mentre invece notavo però questo magari me lo dici te perché in realtà prima del 3 live avevamo fatto due chiacchiere quindi ero interessato che vi dessi quella risposta perché invece cioè è molto più semplice no? lavorare in una coppia che fa un GDR e cartaceo non ci sono mai discussioni non c'è mai allora come dire come si lavora in due è un GDR orientativamente funziona così ci si incontra o dal vivo online ci si urla in faccia per un paio d'ore e poi esce il gioco questo è più o meno quello che mi piace è incredibile questo è il game design intercategoria che ricordo bello piace sempre no devo dire che in realtà ho lavorato tra virgolette a giochi con più persone gli unici in cui compaio come autore per il momento sono questi due con Gian Mario Marrelli appunto e devo dire che con lui Emi sono sempre trovato molto bene nel senso che ne discutiamo in modo molto pacato e tranquillo e molto riflessivo eccetera eccetera potrebbe essere dovuto al fatto che siamo due professori nella vita e quindi siamo molto entrambi eccetera sì io ho detto che sono un fisico ma di lavoro faccio il professore peraltro neanche di fisica ma poi come no insegno l'anatomia degli occhi c'è ho tante domande al riguardo ma penso che non le farò lo capisco lo capisco è un gioco sugli occhi mi hai pensato un gioco sugli occhi pariamo il corpo umano no com'era siamo fatti così versione manuale GDR bello bello che devi andare a sconfiggere i virus devi fare l'anticorpo con il mangane guarda guarda questa me la segno vai segnala poi citami solo nei ringraziamenti vai è bellissimo perché ma in realtà è bello anche portare le proprie esperienze al tuo questa no questa me la segno poi quando avrò scritto il GDR mi chiameranno da qualche altra parte a per parlare del gioco poi io dirò eh no la genesi di questo gioco è che ero su twitch in live è arrivata è arrivata la un mese sulla via di Damasco è bellissimo non mi ricordo cosa stavo dicendo ma niente ah sì la genesi dei giochi in cui si lavora in gruppo diciamo ci sono altre situazioni in cui mi sono trovato un pochino più a dover andare più duro su certi punti però sono insomma non mi sono mai trovato in situazioni particolarmente complesse da sbrigliare da questo punto di vista sicuramente è uno schema più libero rispetto al lavoro diciamo di tutto che forse magari hai più più persone più regole più 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 vabbè no e sai per dire cose che ti fanno licenziare io lo sentite però se ti vuoi far licenziare no sei sicuro no 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 ma invece facciamo un'ultimo lato di domande senza farmi licenziare aspetta che mi sa che è saltata vorrei dire una stupidaggine non lo vedo più il nostro Lorenzo che lo stiamo ammortizzando di domande tra l'altro è stra interessante vedere anche magari il retro appunto di come si sviluppano i manuali perché noi siamo qui a tipo a sputare merda random tra l'altro anch'essimo adesso ci fai passare per un video no 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 ma perché noi magari appunto giochiamo a un manuale e subito spariamo sentenze quando in realtà perché ce ne sono due vai e dimmi quando c'è effettivamente tutto il lavoro che a volte non calcoliamo oh è stato espulso ok va bene come siamo cattivi Ludo eccomi dovrei avercela fatta rientrare yay purtroppo Gizzy fa schifo no eh vabbè merda su Gizzy sorry va bene ma invece appunto se avete delle ultime domande che poi penso che l'abbiamo già provato abbastanza è stato già troppo gentile a rispondere così tanto io ho una domanda ma come fai a gestire il lavoro e gestire il game designer e gestire no davvero fare da master fare da tutto come trovi? la risposta è semplicissima non ce la faccio ah ok ah no ok ma va avanti come l'aspettavo claudicante no ma perché io cioè non riesco a gestire una campagna e il lavoro quindi immagino fare tutte queste cose commissione no allora io ho non sono sempre stato uno che non riesce molto a star fermo e diciamo che io mi definisco un eclettico in realtà ultimamente gira questa cosa di multipotenziale eccetera eccetera che forse è adattabile alla situa peraltro ho una relativa certezza anche se mi hanno detto che non è non è più diagnosticabile di soffrire di ADHD quindi una combinazione di cose una combinazione incredibile tendenzialmente faccio veramente tanta roba spesso male nel senso ne faccio tanta ma non ne faccio nessuna al meglio questo è per esempio il motivo per cui ora ho preso un po' il via ultimamente ma tutti i giochi che vedete per esempio Switch sono usciti sono usciti negli ultimi tre anni ok nonostante il mio lavoro da game design di anni alle spalle ce ne abbia una decina almeno perché prima non riuscivo mai a trovare la la quadra peraltro prima del 2019 facevo un lavoro diecimila volte più stressante infatti non era fattibile perché lavoravo in un negozio che stava un'ora di macchina da casa con dei turni che a volte finivano alle dieci di sera e quindi non era non era veramente fattibile riuscire a fare praticamente nient'altro cioè per giocare per giocare di ruolo ci si trovava cioè io staccavo alle dieci no quando staccavo alle dieci non si faceva di solito a dire il vero ma se staccavo alle otto alle nove andavo da un mio amico che aveva una pizzeria al taglio e lui alle dieci tirava giù il bandone e noi si rimaneva dentro in pizzeria a giocare la sera e questo era l'unico modo che avevo per giocare di ruolo perché se no non mi riuscivo a organizzare con nessun altro no ti capisco ti capisco io ero a casa alle nove la sera quindi è stress uguale cioè non è uguale però adesso ho un lavoro che mi dà molta più libertà e quindi sicuramente faccio meno fatica a conciliare le cose questo non significa che non faccia fatica a volte è difficile se se lavorassi tutti i giorni ai gdr che ho che sto scrivendo eccetera eccetera non ne avrei pubblicati quelle quattro cose che ci sono su each ne avrei pubblicate 20 comunque allora veramente ma è giusto anche così essere umani ma complimenti perché cioè nel senso si vede che hai tantissima passione amore per riuscire comunque a cercare di stare dietro a tutto e portare avanti tutto cioè hai la mia più grande stima te lo giuro assolutamente assolutamente grazie c'era un meme una volta a questo riguardo che secondo me era che c'erano praticamente due grafici e sulla sinistra ce n'era uno che diceva come ci si immagina che sia la vita dopo l'università e c'erano il grafico a torta con un 33% lavoro 33% amici e 33% relazioni con sottoscritto cercare di bilanciare tutte le cose e l'altra invece c'era una ruota con una 40 spicchi con scritto provare a fare tutto finché non collassi e quello sono io sleeping schedule ma potrei prendere un pezzo e uscire in questo carro ecco solo 4 ore di sonno niente questa è una cosa questa è una cosa che mi capita un po' perché soffro di insomma ogni altra delle cose quindi quando non riesco quando non riesco a dormire videogioco di sonno tra l'altro io aggiungerei in mezzo agli impegni che ha due gatti che secondo me sono un altro impegno sì dai non minori degli altri sì no ora stavo guardando se ce n'era uno dei dintorni ma in questo momento saranno a farsi cazzi loro da qualche parte mi sembra giusto forse qualcun altro in casa gli ha gli ha dato del cibo e quindi comunque davvero stra complimenti tra l'altro anche nella chat lo stavano scrivendo hai la più profonda stima di tutti la mia per prima perché appunto io ho una sola campagna non riesco a stare dietro tra il lavoro e quello non so tu come fai tra l'altro prima mi hai detto che stai facendo anche un trasloco sì ci butto pure quello dentro dietro abbiamo le scatole del trasloco perché ho comprato casa oh congratulazioni tra le altre cose perché siccome non me ne bastava una comprare casa utenze lavori capi tutto cioè un uomo un uomo mille incombenze neanche mille davvero il sistema di stamina di slash di six l'hai fatto basato sulla tua esperienza dovete capire esatto l'hai durato beh sì cioè riesci a fare tutto però finché non basta davvero guru ora sarà il mio santino me lo stampo no perché è incredibile cioè complimenti 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 andate tutti quanti ad iscrivervi intanto ah sì follow what ok appunto in chat saranno arrivando i complimenti puoi recuperare che è stata capita la chat durante la live allora intanto ovviamente interrompetemi pure cost se nel frattempo vi hanno in mente cose io inizierei a ringraziarti un sacco per essere stato con noi ovviamente invito chi ci sta seguendo a non andarsene che comunque è finita questa facciamo ride a un altro canale per gentile e quindi ti ringraziamo un sacco e tra l'altro ci tengo a dirlo ovviamente se sei tra benvenuto se più avanti volessi venire con il tuo collega o a parlare di qualche tema specifico ci sentiamo e ci accordiamo benissimo vi ringrazio per l'invito vi ringrazio per i futuri inviti e poi un giorno ci dovrei spiegare come ci si arriva a spiegare gli occhi l'analisi degli occhi scusate ma a me mi ha incuriosito troppo effettivamente dalla fisica all'anatomia il passo non è esattamente l'angolo c'è un anello di congiunzione che è l'ottica ah ok giusto anche quello quindi io ti ringrazio un sacco poi lascio anche i miei cost per i saluti e poi anche a te ovviamente quindi grazie mille per stati con noi e per essere stato con noi ringrazio anche chi ci ha seguito per i commenti e per essere stato con noi e gli invito a rimanere per il ride successivo e appunto aprendo anche a possibili anche a collaborazione faccio fare il giro di saluti allora io ti ringrazio di cuore tra l'altro ti ho detto ora sei il mio nuovo guru della vita non so come fare a fare tutto davvero bellissimo tra l'altro ti chiedo se i nostri ragazzi della chat eccetera eccetera del gruppo anche perché ora rimanderemo anche il link del Ludens lo mandiamo anche all'interno del nostro gruppo Telegram se qualcuno dovesse giocare a B&B eccetera ti facciamo mandare i commenti ovviamente ti iscrivono assolutamente sì e tutti i loro feedback sì sì feedback sono sempre i benvenuti perfetto e mi raccomando ragazzi andate quelli che sono rimasti no 13 andate iscrivervi all'interno del gruppo Telegram e giocate a B&B che tra l'altro è fantastico e non vedo l'ora di potermi andare a mangiare Gab ciao Gab giocheremo insieme a B&B grazie mille davvero Lorenzo per essere stato con noi questa sera grazie di cuore ancora grazie a voi per l'invito vabbè da quarta mia grazie con grazie per essere venuto so che c'è stato un po' di casino un po' per metterci d'accordo tra vari impegni cazzi e mazzio l'importante è essere riusciti a portarla a casa quindi niente per quanto mi riguarda buonanotte e buone botte grazie Simo che ci ha portato Lorenzo perché sennò noi grazie a Simo che fa networking meglio di un HR grazie Simo ci si prova ci si prova dai bene quindi a questo proposito no vi dico vi ringrazio tantissimo e vi chiedo eventualmente di mandarmi anche il link al vostro telegram perché così io lo butto nel mio giustamente sono stato vostro ospite mi sembra al minimo lo metto faccio un annuncino magari domani lo metto su telegram e discord che mi sto già mi sto già prodigando grazie mille dai così organizzeremo sicuramente qualcosa più avanti assieme assolutamente detto questo facciamo un raidino visto che c'è la tana dell'occhio che stanno giocando quindi andiamo a fargli un saluto e grazie ancora a tutti quelli che sono stati con noi siamo 14 alle 11 10 quindi bene siete resistiti quindi congratulazioni anche a voi e salutateci ragazzi della tana dell'occhio e ovviamente ci ritroviamo qui domenica prossima ciao buonanotte a tutti tanto stavo guardando lo schermo sbagliato questo è il mio piccolo ho fatto partire ho fatto partire buonanotte grazie ancora buonanotte a tutti ragazzi buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti